Qualcuno comodamente, molto comodamente, li definisce allarmisti, spiegandoci che l'inquinamento e il cambiamento climatico sarebbero delle invenzioni per rovinare i piani del signore del fossile. Eppure non passa giorno in cui dei riconosciuti studiosi non avvertano della catastrofe ambientale che ci aspetta se non si corregge la rotta. Ieri lo studio di 11 ricercatori Enea, pubblicato sulla rivista scientifica Chance Direct, ci dice che nel 2050 il rischio di mortalità nelle città di Roma e Milano sarà aumentato rispettivamente dell'8% e del 6%. Secondo gli scienziati l'aumento sarebbe l'effetto di una combinazione di temperature crescenti dovuta al cambiamento climatico e alla concentrazione di inquinanti nell'aria come l'ozono e il PM10. Il particolato atmosferico del resto è riconosciuto come agente cancerogeno e rappresenta la prima causa ambientale di mortalità. Secondo l'OMS il numero di decessi da inquinamento dell'aria è raddoppiato dal 1990 al 2019 raggiungendo i 4,5 milioni di morti di cui il 92% a causa del particolato atmosferico e l'8% per l'ozono. Secondo lo studio nei prossimi decenni la città di Roma potrebbe raggiungere i 591 decessi l'anno durante i mesi estivi l'8% in più rispetto ai decenni precedenti. A causa, scrivono, delle alte temperature e di una concentrazione di ozono troposferico al di sopra del valore limite per il danno alla salute umana. E anche per Milano le cose non andranno molto meglio. Secondo lo studio si stima che la mortalità sarà più alta durante l'inverno, 1787 decessi su 1977 complessivi, siamo al 90%, a causa del clima più rigido, delle maggiori concentrazioni di PM10, oltre la soglia giornaliera di 50 mg al metro cubo fissata dalla direttiva dell'Unione Europea sulla qualità dell'aria, per effetto delle maggiori emissioni di combustione di condizioni atmosferiche stagnanti dovute alla geomorfologia e alla localizzazione geografica di Milano. Alla luce dei risultati ottenuti, gli scienziati ribadiscono l'urgente necessità di adottare politiche più rigorose e integrate in materia di qualità dell'aria, in contrasto al cambiamento climatico. Uno degli obiettivi fondamentali, scrivono, dovrà essere il contenimento dell'aumento delle temperature a media globale al di sotto di un grado e mezzo entro il 2100, operazione che permetterebbe di ridurre il numero di decessi di 8 volte a Roma e di 1,4 volte a Milano rispetto al periodo 2004-2015. Già lo scorso settembre del resto uno studio, realizzato dal Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, sottolineava il rischio di aumento delle temperature nelle città italiane di 6 gradi entro fine secolo, senza politiche ambientali adeguate. Ora, possiamo affermare che il negazionismo sul tema non lo prendiamo nemmeno in considerazione? È semplicemente intollerabile? Benissimo. Ora la credibilità. Si gioca sull'affidabilità e la velocità delle soluzioni. Allarmarsi, solidarizzare non serve. Agire bene, agire subito. E' questo il grande tema politico del presente.